Sì, ci sono dei tantam, anche fra gli addetti ai lavori, sembra che ci possa essere un rinvio. Non ho capito il motivo, se è perché siamo prima Ferragosto, se è perché siamo in estate. Non sto riuscendo a individuare le motivazioni, ma potrebbe non esserci Catania, Leonzi o Domenica. Quindi potrebbe essere rinviata di una settimana. Io ti dico la verità, sono, diciamo, in questo caso tifo per il rinvio, perché ero impegnato e quindi non potevo seguirlo. E allora, se volete saperlo, chiaramente il link è sempre quello, globusmagazine.it, calcionate i commenti in casa rossa e azzurra, entrate, appena ci saranno novità nei nostri articoli, nei nostri canali di informazioni, vi faremo sapere tutto. Ci chiedevano il MCIA ed è giusto perché noi settimana scorsa abbiamo attenzionato Francesco Lodi, abbiamo visto immagini, abbiamo parlato di un giocatore che conosciamo bene un po' tutti. Oggi andiamo a scoprire un po' altri acquisti del Catania. Partiamo proprio dal difensore ex Andrea. Allora, Remsi Aya, nazionalità italo-tunisina, età 26 anni, ruolo difesa, difensore centrale, squadra precedente, Fidelis Andrea. E allora, Remsi Aya, uno dei difensori migliori della categoria dello scorso anno. Non so se abbiamo delle immagini anche, magari le andiamo a vedere. Max, questo colpo è un po' anche una risposta alla perdita di Dario Bergamelli, che era un po' il leader della retroguardia rossa-azzurra. Sì, ma se si voleva sostituire Bergamelli, che obiettivamente, diciamolo con molta rezza, insieme a Pisseri è stato il miglior giocatore del Catania negli ultimi anni, si doveva prendere un elemento che per la categoria fosse, fra virgolette, top. Ramsi Aya è stato giudicato il miglior difensore della Lega Pro dell'anno scorso, 26 anni, giocatore già di esperienza, fa anche qualche gol, arriva con tutte le prerogative migliori per poter fare bene a Catania. È chiaro che poi bisognerà vederlo in campo. Io dico solamente una cosa, l'anno scorso l'Andrea aveva la migliore difesa del campionato. Quindi questo già è un dato di fatto. È un giocatore predisposto al 3-5-2, alla difesa 4, anche a fare l'esterno. Diciamo che è poliedrico e poi è una stazza, veloce, perché non è un giocatore, non è un centrale lento, lavora molto sugli anticipi. Quindi, appunto, il caso non è un caso che il giocatore sia stato il migliore della stagione nel suo ruolo nella categoria. È anche un buon rapporto col gol, che è un po' quello che ha detto Cristiano Lucarelli in conferenza stampa, quando è stato presentato alla stampa, ha detto io cerco i gol non solo l'attaccante. Chissà che Aya, che andando a memoria, se non ricordo male, proviene dal settore giovanile della Fiorentina. Quindi, comunque, parliamo di un giocatore che ha conosciuto, diciamo, campi importanti e che ha esperienza in questa categoria, sicuramente potrà, magari, portare qualcosa anche in tal senso alla squadra di Lucarelli. Integro. Questo è importante. È un giocatore che non ha infortuni. Sì, l'anno scorso sono arrivato circa 34 presenze con l'Andrea. È abbastanza strutturato fisicamente, quindi è importante. E chi si spera possa avere un buon fiuto col gol, anche perché il ruolo lo richiede, è Devis Curiale, l'attaccante, l'unico forse attaccante che ha ufficializzato il Catania, togliendo, ovviamente, Valerio Nassasi, rientrante dal prestito, che è arrivato qualche giorno fa a Torre del Grifo e sicuramente porta addosso tante aspettative. Devis Curiale, nazionalità italiana, età 29 anni, ruolo attaccante punta, squadra precedente Trapani. Devis Curiale, che col Trapani ha fatto tanto bene, magari non è il classico attaccante, proprio per questioni di ruoli, che fa tanti e tanti gol, ma è un attaccante che è una mano per il reparto, una mano in pressing, anche in fase di non possesso palla, la dà e come. Andiamo a vedere magari le immagini. Max, cosa ne pensi? Io penso che sia un buon acquisto, perché si tratta di una seconda punta che per la categoria certamente potrà fare bene. Ha avuto anche un'esperienza a Lecce, dove non è andata a dire la verità benissimo. È un ragazzo che ha fatto molto bene qualche anno fa, ha segnato anche diversi gol, poi un po' dal punto di vista delle realizzazioni si è perso, però è chiaro che non è una prima punta. Può fare la prima punta, però è una seconda punta che secondo me è perfetta per il 3-5-2, in appoggio alla punta centrale, perché è uno che fa fare anche gol, è uno che si muove discreto tecnicamente, ha dei buoni piedi, quindi è un giocatore secondo me importante per la categoria. Mi piace come acquisto. Peccato che abbiano dismesso scoppa, perché già avevamo preparato scoppa Davis e cose di questo genere qua, però poi... Riuscite anche a battermi su certe cose, complimenti. Sì, i titoli dei tutoriali di Max sono famosi. È interessante, allora non ero lontano io da come idea. Però alla fine penso che possa essere un buon acquisto, fermo restando che ciò non tolga che il Catania abbia bisogno di un giocatore, di una punta centrale in grado di garantire quei 15 gol, perché se andiamo a vedere gli ultimi campionati, gli hanno vinti squadre che avevano in organico il ragazzo che ti fa 15-20 gol e ti dà la possibilità di vincere anche le partite sporche. Certo, assolutamente sì, come Mazzeo lo scorso anno, che al Foggia ha fatto tanto bene. Abbiamo visto le immagini di Davis Curiale, che la scorsa stagione, sempre andando a memoria, però tutto sommato ha una buona memoria fotografica, fece 15 presenze e due reti, non tantissime come giustamente sottolineava Max, non è l'attaccante da area di rigore, però è la seconda punta che permette all'attaccante forte d'area di rigore di segnare tanto. I gol però li ha fatti, soprattutto con la maglia del Frosinone, le immagini che stiamo vedendo, le immagini che stiamo vedendo sono proprio con la maglia dei Sciocciari. Passiamo a un altro acquisto, così chiudiamo questa parentesi conoscitiva dei nuovi acquisti rossazzurri, Daniel Semenzato, esterno, vivaio dell'Inter, classe 1987. Giulia, andiamo a vedere la scheda. Allora, Daniel Semenzato, nazionalità italiana, età 30 anni, ruolo difensore terzino destro, squadra precedente Pordenone. Max, altro acquisto che si presta molto è anche un ipotetico 3-5-2, un esterno che sa fare bene, sia la fase difensiva che la fase offensiva. No, è stato preso per quello, perché parliamoci chiaro, sapendo già inizio campionato, e questa è una cosa positiva, che tipo di ruolo, di modulo voglia fare, l'allenatore tu sei avvantaggiato. E era sostanzialmente insieme al ruolo di punta centrale la casella più debole del Catania l'anno scorso, perché era occupata da Parisi, che non ha fatto benissimo, quindi è stato preso un giocatore che l'anno scorso ha fatto non bene, benissimo nel Pordenone, è stato giudicato uno dei migliori esterni della Lega Pro. Quindi anche in questo caso è stato fatto un acquisto di categoria. Acquisti mirati. Noi stiamo individuando degli acquisti che sono stati chiari, senza il dubbio, come mirato è stato anche l'acquisto di un altro difensore centrale, appunto il Catania aveva subito già a giugno visto partire due dei suoi difensori centrali, sto parlando ovviamente di Gilles e Bergamelli, tre con la partenza poi di imboci avvenuta in settimana. Il Catania ha subito colmato il vuoto prendendo prima Tedeschi poi Aia. Luca Tedeschi. Luca Tedeschi, nazionalità italiana, età 30 anni, ruolo difesa, difensore centrale, squadra precedente Cosenza. Altro giocatore di grande esperienza, altro giocatore, caro Max, che viene da una squadra che lo scorso anno ha fatto tanto bene. Sì, anche il Cosenza aveva un'ottima difesa. Questo è un altro giocatore di categoria che sicuramente ti garantisce il rendimento. Messo insieme a elementi come Marchese e come lo stesso Aia, secondo me, forma una difesa centrale adeguata alle ambizioni di una squadra che voglia fare bene. Giocatori che abituate alle sportellate. Anche qui andiamo a cercare quello che abbiamo perso un po' di vista nel calcio moderno italiano. La marcatura uomo. Questi sono giocatori che sono stati cresciuti con la marcatura uomo. Poi trasformati. Pian piano si sono migliorati. Si sono adeguati. Però questi sono giocatori da marcatura uomo. Cosa che negli ultimi anni abbiamo perso e verifichiamo anche nel nostro campionato di Serie A degli errori marchiani su palle inattive soprattutto. Questi sono i giocatori che lavoreranno moltissimo da questo punto di vista. Sì, anche lo scorso anno il Catani ha avuto... Però è lì. Ricordo che sotto la gestione Pulvirenti il Catani abbia più di qualche problema anche sui corner, diciamo, subì parecchi gol. Nonostante comunque l'organico del Catani fosse molto forte anche da un punto di vista fisico, di centimetri, nonostante tutto, si creavano non pochi problemi. Abbiamo conosciuto meglio alcuni degli acquisti del Catani. A questi si fanno ovviamente ad aggiungere quello di Cicciolodi che è stato il primo acquisto del Catani è quello di Caccetta, anche lui dal Cosenza, di cui avevamo già ampiamente parlato nelle scorse settimane. Quindi oggi abbiamo preferito zoomare sugli altri neo-arrivati della squadra rossa-azzurra. Magari settimana prossima se ci sarà l'arrivo di qualche altro giocatore, chissà che non possa arrivare quel numero 9 che tanto il Catani cerca, magari andremo a scoprire di più le caratteristiche di questi nuovi giocatori. Grazie a tutti.